Tantissimi, tu hai chitato l'anima ovviamente di gioia e il suo figlio di alta qualità su tutto per cui negavo non mi importava niente il QG è il retro di Venezia e Giulia sì va bene è una delle più recenti tracce di più diciamo su Radio Wow siamo arrivati all'appuntamento con lei il prete è una buona protagonista di oggi abbiamo scelto tra i tanti i vostri quest'anno di radio il QG è il retro di Venezia e Giulia in percorsi gli altri progetti sulle api e anche il 15% è stato il tempo di lavoro senza capire e ne sono molto felice di avere avuto un fratello e di avere una sorella la presenza di magia è fondamentale così e anche con le pratiche che facciamo e anche con le pratiche che facciamo e anche con le pratiche che facciamo di mille modi per morire per cento sui tuoi nuovi occhiali Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.